A partire dal 2013 lo IAI ha realizzato in collaborazione con il Laboratorio Analisi Politiche e Sociali dell'Università di Siena con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo periodiche indagini demoscopiche volte ad accertare e valutare gli orientamenti dell'opinione pubblica italiana sulla politica estera del nostro Paese. Quest'oggi l'Istituto presente al rapporto 2022 che illustra appunto i risultati delle indagini noi con diversi autorevoli ospiti commenteremo in questo webinar. Al presidente dell'OIAI, l'ambasciatore Ferdinando Nelly Feroci il compito di salutarci, illustrarci l'importanza dell'evento. Grazie Francesco, pochissime parole per introdurre i lavori con i quali verrà presentato il risultato di questo sondaggio dell'opinione e anche per ringraziare non solo gli autori del sondaggio ma anche i discussant che oggi hanno accettato il nostro invito a partecipare e a commentare questi risultati. Francesco ha già ricordato, questo è il più recente episodio di una lunga e devo dire molto fruttuosa collaborazione dell'Istituto Affari Internazionali con l'Università di Siena in particolare con il Laboratorio di Analisi Politica e Sociale e in particolare con il professor Pierangelo Isernia che ha coordinato anche questo sondaggio di opinione. Lui vi darà tutti i dettagli, ovviamente non aspetta a me entrare in una discussione, in un'analisi. Devo dire che sono dati molto interessanti, vanno valutati anche nel contesto in cui il sondaggio è stato realizzato e in cui i risultati del sondaggio vengono presentati. Il sondaggio è stato di fatto realizzato in piena campagna elettorale, questo poi Isernia ci dirà, siccome quanto questo ha impattato sulle risposte degli intervistati e oggi per una circostanza che è vista in parte un po' risultato di una combinazione fortuita usciamo con questi risultati alla vigilia del conferimento dell'incarico per la formazione del nuovo governo. Quindi noi ci auguriamo che siano utili anche a chi si appresta ad assumere responsabilità di governo. Due o tre elementi molto molto sintetici che mi hanno colpito nel leggere rapidamente la sintesi di questi risultati. Il numero degli intervistati è un numero particolarmente elevato, sono più di 3.000 persone che sono state intervistate. Poi Isernia ci dirà sulla base di quali criteri sono stati selezionati. Per motivi ovvi di gestione del sondaggio si è dovuto organizzare si è dovuto organizzare questa intervista attorno a una serie di macro temi diciamo alcuni prevedibili come il tema degli interessi nazionali o delle minacce prevalenti, il giudizio sul governo Draghi, il tema sempre molto controverso e anche molto articolato del rapporto con l'Europa e il tema degli altri, cioè dei leader sostenieri, del tema delle alleanze, il tema dei nostri rapporti con i due grandi paesi che oggi in un modo o nell'altro vengono percepiti non solo in Italia ma nel mondo come minacce all'ordine liberale delle relazioni internazionali a cui eravamo abituati ma che in qualche modo è rimesso in discussione dalle cose che stanno succedendo in particolare in Europa. Come avevo promesso non voglio entrare nel merito però due o tre commenti permettetemi di farli. I risultati sono per certi aspetti prevedibili, per altri aspetti abbastanza innovativi e per me anche sorprendenti però sarà Isernia poi a illustrarvi, lo vedrete. Non mi ha sorpreso che il tema degli approvvigionamenti energetici sia oggi considerata la preoccupazione maggiore da parte dei cittadini italiani ma un po' sorpreso invece vedere immediatamente subito dopo il tema della crisi energetica degli approvvigionamenti il ritorno delle migrazioni come tema fonte di preoccupazione. Mi ha un po' sorpreso, questo lo devo dire, ma poi ne parleremo, vedere che il giudizio degli intervistati sulla performance del governo Draghi in materia di gestione della posizione italiana sul conflitto in Ucraina non era così lusinghiero come io mi sarei aspettato. Ma insomma, non voglio entrare in ulteriori dettagli, seguirò anch'io tutta la discussione. Permettetemi semplicemente di ringraziare non solo Carangelo Isernia, non solo la sua equipe, il suo team ma anche naturalmente la compagnia di San Paolo perché è grazie alla compagnia di San Paolo e al suo supporto che questo sondaggio si è potuto realizzare. So che dopo di me prenderà la parola Niccolò Russo Perez quindi approfitto anche della sua presenza per ricordare questa preziosissima collaborazione con la compagnia di San Paolo. E poi permettetemi di ringraziare nell'ordine alfabetico Maurizio Caprara, Elsa Fornero, Ettore Greco che ha anche attivamente partecipato all'elaborazione dei quesiti, Vittorio Emanuele Parso e Sofia Ventura, nonché Andrea De Sì, che è lui coinvolto direttamente nella gestione dei sondaggi e che concluderà questa nostra giornata di lavori per avere accettato il nostro invito a partecipare a questo incontro. Mi dispiace che lo facciamo da remoto ma questa sta diventando la modalità prevalente, ci consente di parlare con amici che sono a Torino e a Milano che altrimenti avrebbero avuto qualche difficoltà a raggiungersi in sede. Grazie mille della vostra attenzione e buon lavoro, buon proseguimento. Niccolò, a questo punto la parola a te. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Spero che l'audio sia buono, chiedo alla regia conferma. Va benissimo. E spero che il volume sia adatto. Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Piacere ritrovarvi. Benvenuti all'incontro dedicato alle priorità e sfide della politica estera italiana. È un seminario, come ha detto già l'Ambasciatore Nelli Feroci, durante il quale saranno presentati, discussi, risultati dell'indagine ormai annuale, demoscopica, sulle opinioni degli italiani in materia di politica estera, che è condotta dall'Istituto Affari Internazionali e dal Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali dell'Università di Siena, che ringrazio con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ho il piacere di rappresentare. Il sondaggio esamina, diciamo, orientamenti e percezioni dell'opinione pubblica e degli elettorati delle varie coalizioni e partiti riguardo a quelle che sono le minacce, le priorità e le sfide della politica estera, con cui dovrà misurarsi il nuovo governo italiano e contiene però anche alcuni giudizi sull'operato del governo Draghi. Il webinar è quindi un'occasione per, diciamo, uno scambio di idee e valutazioni sulle priorità di politica estera italiana in un quadro internazionale che è in continuo mutamento dal rapporto con l'Europa e la Nato all'invasione russa dell'Ucraina, alle questioni di sicurezza e alla cooperazione internazionale. Queste ed altre tematiche saranno appunto affrontate durante una tavola rotonda con accademici, analisti di politica estera e giornalisti che seguirà un dibattito con il pubblico. Lascerò naturalmente anch'io al professor Pierangelo Isenia che saluto e ai relatori il commento approfondito dei risultati. C'è però un tema che mi sembra emerga con grande chiarezza dalla lettura di questa edizione del rapporto. La crisi energetica. La fragilità della condizione energetica dell'Italia è più che mai una fonte di preoccupazione per i nostri concittadini. L'edizione di quest'anno, del 2022, del sondaggio mostra come per la maggior parte degli italiani, ben il 53%, poi i dettagli li vedremo tra pochissimo, per la maggior parte degli italiani, la necessità di garantire i rifornimenti energetici sia in cima agli interessi nazionali. Il dato è, ce lo aspettavamo, ma è veramente in fortissima crescita rispetto all'anno scorso quando si attestava sul 11%, se non erro. La maggioranza assoluta degli italiani è inoltre convinta che, questo è un punto anche abbastanza rilevante, che il governo Draghi non abbia fatto abbastanza per contrastare la crisi energetica e spera che il nuovo Parlamento se ne occupi senza indugi, prendendo misure più incisive. In realtà, come sappiamo, il governo uscente si è messo al lavoro sin da prima dell'invasione russa dell'Ucraina, proprio per contrastare la crisi energetica, che nonostante la maggioranza degli italiani, sorprendente, insomma, 55%, se non sbaglio, non considera adeguata l'azione intrapresa dal presidente Draghi e dal suo governo. Draghi in realtà, interlocutore autorevole a Bruxelles e a livello internazionale, e in varie fasi della crisi, promotore, diciamo, di soluzioni solidali e comuni a livello europeo, ha tentato senza sosta di assicurare nuove importazioni, in particolare dai paesi del Mediterraneo, proprio per diversificare le forniture. L'Italia, inoltre, come i suoi partner europei, sta lavorando per riempire i propri impianti di stoccaggio in vista dei mesi invernali. Volendo spingerci a dare qualche numero, nel complesso è stato calcolato che il governo Draghi ha stanziato oltre 60 miliardi di euro, una cifra pari al 3,5% del PIL, per sostenere le famiglie e le imprese vulnerabili, ponendo l'Italia tra i paesi che hanno speso di più in Europa. Questa forte discrepanza tra la realtà dei fatti, da un lato, e la percezione dell'opinione pubblica, dall'altro, su un tema di grande importanza come quello della crisi energetica, credo sia un aspetto di grande rilievo che dovrebbe far riflettere. Mi fermo però qui, nell'anticipazione dei risultati del rapporto, proprio per non sottrarre ulteriore materiale prezioso all'amico Pierangelo Isernia che interverrà a breve. Vi ringrazio molto, ringrazio molto tutti i relatori, le relatrici che interverranno oggi, i ricercatori che hanno svolto, ancora una volta, un lavoro davvero eccellente di ricerca policy-oriented, e tutti i partecipanti, e vi auguro un'interessante conversazione. Grazie a tutti. Grazie, grazie Nicolò. È il momento ora della presentazione dell'indagine duemilaventidue, con noi Pierangelo Isernia, professore di scienza politica dell'Università degli Studi di Siena, il cui laboratorio analisi politiche e sociali, appunto, ha realizzato con l'OIAI l'indagine di cui parliamo. Lei pronta. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto, due parole di ringraziamento anch'io al presidente Nelly Feroci e a Nicolò Russo Perez, quale ci lega un'amicizia quasi ventennale, dato che da un lato con l'Istituto Affari Internazionali lavoriamo su tanti fronti, sia italiani che europei, e con Nicolò Russo Perez e la Compagnia di San Paolo, come dire, teniamo anche alta l'attenzione nei confronti dell'opinione pubblica italiana, perché ricordo che la Compagnia di San Paolo in passato finanziò il Transatlantic Trend Survey e ora appunto questa iniziativa. È un progetto comune, quindi, come dire, la fusione tra ricercatori IAI e ricercatori dell'Università di Siena ormai è quasi indissolubile, però devo anche dire che proprio perché è così ricca non potete aspettarvi che io in 15 minuti sintetizzi tutto e segnalo che proprio per la sua ricchezza di dati, di casi, di numero di persone intervistate e di temi sono già uscite diverse anticipazioni che invito tutti quelli che non le avessero viste a leggere perché ce n'è veramente per ogni settore, l'energia, la migrazione, gli aiuti allo sviluppo, la sicurezza e così via. Io mi soffermerò su un tema solo, mi soffermerò in particolare sul rapporto tra questi dati e i governi italiani, quello che ci lascia e quello che forse verrà, devo dire la verità, lunedì avevo messo il governo Meloni, martedì Berlusconi me l'ha fatto togliere, oggi ha preso una posizione intermedia aspettando che Mattarella ci comunichi il da farsi. perché? Perché diciamo è un tema prospettico riguarda che cosa succederà, potrebbe succedere in futuro e da questo punto di vista i nostri dati secondo me ci consentono di dire delle cose interessanti. Due parole sull'indagine, l'indagine è stata fatta a settembre, come ha detto il presidente Nelly Feroci è stata fatta nel pieno della campagna elettorale, questo ovviamente pone, diciamo così, da un lato rende il clima nel quale queste interviste sono state fatte particolarmente diverso da quello degli anni precedenti però nello stesso tempo fotografa una situazione diciamo in cui gli italiani sono un pochino più attenzionati diciamo su queste tematiche. Sono stati intervistati circa 3.000 persone con un panel opt-in che è stato poi riponderato per rappresentare la popolazione la popolazione italiana. È un questionario molto ricco che è stato modulato anche a seconda delle tematiche quindi non riporto mai il numero di casi perché a volte sono 3.000 a volte sono 2.000 a volte sono 1.000 per cui se volete avere dettagli su questo potete vedere il rapporto o i vari documenti che sono usciti. In assoluto qualcosa su da dove partiamo e qui devo dire la verità la sorpresa che è stata menzionata circa la popolarità o minore popolarità del governo Draghi secondo me non deve sorprenderci perché un pochino il governo Draghi ha vissuto in una bolla mediatica e di questo dobbiamo prendere atto con i dati che abbiamo alcune cose positive che sicuramente sono state continuate dal governo Draghi ma non è stato solo lui a generarla una maggiore o una percezione di una maggiore influenza del nostro paese sia nel mondo in generale che in Europa io qui mostro solo i dati per il mondo abbiamo fatto all'altra metà del campione la stessa domanda sull'Europa e sono leggermente diversi quest'anno circa il 35% ritiene che noi abbiamo molta abbastanza influenza quindi un trend leggermente in crescita rispetto agli anni precedenti in secondo luogo il governo Draghi ha avuto dei voti positivi su alcune tematiche meno positivi su altre l'ho detto anche l'anno scorso gli italiani non sono dei professori universitari generosi si tengono un pochino quando si tratta di dare i voti che cosa vediamo qui che ci sono delle tematiche che chiaramente hanno premiato Draghi e questo è il rapporto con l'Unione Europea qui chiaramente la presenza e la posizione di Draghi non ha diciamo non ha paragone con gli altri due governi che lo hanno preceduto e questo è riconosciuto dagli italiani sugli altri temi il giudizio è un pochino più diversificato migliore sul rapporti con gli Stati Uniti peggiore per quanto riguarda i rapporti con la Russia e questo perché questo in parte perché l'opinione pubblica italiana aveva in relazione anche ai partiti con i quali si identifica aveva opinioni diverse su queste cose rispetto alle posizioni prese dal governo Draghi qui vedete il giudizio che viene dato sul governo Draghi a proposito della sua gestione della crisi ucraina e della gestione dell'emergenza energetica questa è la percentuale di persone che danno un giudizio positivo e vedete chiaramente che non solo c'è un problema opposizione governo nel senso che chiaramente Fratelli d'Italia essendo all'opposizione come è fisiologico succede sempre ha un giudizio più critico ma anche i partiti di governo non è che a volte gli elettorati fossero entusiasti la Lega diciamo raggiunge a stento la maggioranza dei favori dei elettori della Lega a stento la maggioranza e per la crisi energetica addirittura è un pollice verso il Movimento 5 Stelle è lo stesso quindi diciamo da un certo punto di vista si registra qui una una disaffezione che abbiamo trovato anche in dati precedenti fatti da noi con l'Istituto Affari Internazionali i partiti più chiaramente favorevoli il PD e Azione Italia Viva quindi diciamo l'elettorato lato senso di centro-sinistra migliora anche il giudizio circa il modo in cui l'Europa ci tratta questo è un tema sul quale è una domanda che abbiamo inventato noi nel senso che nasce con la nostra indagine e evidentemente coglie qualcosa nel segno perché vedete che l'andamento un pochino segue l'evoluzione complessiva dei rapporti con l'Unione Europea nel 19 questo giudizio era molto più critico e quindi l'idea di essere trattati meno giustamente era più evidente la situazione è leggermente migliorata e in materia di bilancio le cose vanno meglio che in materia di immigrazione quindi da questo punto di vista Draghi ha continuato un trend che comunque era cominciato prima di lui quindi il governo Draghi aveva già al suo interno luci e ombre per quanto riguarda l'elettorato che implicazioni questo ha per il futuro e allora diciamo noi nella nostra analisi ci siamo soffermati ovviamente sia sulle coalizioni anche se in alcuni casi coalizioni propriamente non sono chiamiamoli poli sia sui poli che in particolare sulla coalizione di centrodestra che è quella che presumibilmente salvo errori ed omissioni dovrebbe governare nei prossimi nei prossimi anni non so perché sia così brutto questo colore però non era così originariamente allora primo problema sulla quale sul quale diciamo così il governo è chiamato a dare come dire almeno un segnale al paese e al mondo con chi stiamo possiamo come diciamo la tradizione democratico cristiana ci ha insegnato stare con entrambi essere uniti come dire ritenere i due pilastri Unione Europea e Stati Uniti fondamentali possiamo stare con l'uno o con l'altro o possiamo stare da soli allora mentre diciamo così le prime tre posizioni hanno trovato nel panorama nel discorso politico italiano nel corso dei decenni voci più o meno forti la terza scusate la seconda cioè quella di avere una politica autonoma sia dagli uni che dagli altri è una novità diciamo così del mondo post guerra fredda e che cosa troviamo qui troviamo che la percentuale di persone che rispondono che l'Italia dovrebbe avere un po' una posizione di equidistanza da entrambi è molto forte tra gli elettori di centro-destra il 34% sottolinea questa scelta a fronte del solo 15% degli elettori di centro-sinistra sostanzialmente in gran parte PD il cui 50% ritiene che l'Unione Europea sia il nostro ancoraggio il Movimento 5 Stelle e qui ritroveremo un pattern anche in altre domande è più vicino al centro-destra su questo che non al centro-sinistra mentre azione è chiaramente diciamo così molto più allineata col centro-sinistra su questo tema quindi c'è in Italia un terzo degli elettori di centro-destra che ritiene che Europa e Stati Uniti sì sono ovviamente alleati ma diciamo più o meno da tenere a times way diciamo così in inglese abbiamo esploso quello che succede nel centro-destra e che cosa troviamo ora mi perdoneranno gli elettori di noi moderati se invito a gestire con cautela i dati perché non è proprio un partito numerosissimo quindi i numeri sono piccoli però per gli altri partiti i numeri sono molto consistenti e il risultato è evidente gran parte di questo problema nasce soprattutto dagli elettori di Fratelli d'Italia e della Lega paradossalmente e contrariamente al suo presidente come vedremo gli elettori di Forza Italia sono invece molto più filoatlantici di quanto siano gli altri quindi diciamo questo è un punto da tenere presente unito ad un altro punto che anche segnaliamo cioè che quando si viene all'Unione Europea le coalizioni sono molto divise e queste divisioni sono soprattutto nel centro-destra e in misura minore nel Movimento 5 Stelle il primo grafico illustra l'andamento delle coalizioni alla domanda se dovremmo se ci fosse un referendum dovremmo lasciare l'Unione Europea il 90% degli elettori di centro-sinistra e il 93% di quelli di azione dicono no noi voteremmo contro il 48% degli elettori di centro-destra risponde allo stesso modo e il 43% invece voterebbe per l'uscita dall'Unione Europea e questi numeri crescono ulteriormente per quanto riguarda Fratelli d'Italia quindi c'è qui una situazione diciamo così oggettiva nel senso che è un partito che almeno in passato ha esposto posizioni che il loro il suo elettorato ha chiaramente assorbito di nuovo Forza Italia è un pochino diversa da quella che il suo presidente descrive ritroviamo lo stesso problema su un'altra domanda l'unificazione europea è impossibile perché siamo troppo diversi due terzi degli elettori di centro-destra la pensano così e il 57% degli elettori del Movimento 5 Stelle lo sottoscrivono solo un terzo degli elettori di centro-sinistra e di azione fanno la stessa cosa quindi diciamo l'Europa è un problema e questo problema si traduce in considerazioni pratiche vale a dire può incidere sulle politiche abbiamo chiesto non solo quest'anno se l'Italia dovrebbe impegnarsi a ridurre il debito pubblico e quindi rispettare l'impegno che ha preso a farlo oppure dovrebbe decidere da sola quindi dovrebbe andare contro diciamo così le posizioni europee anche se queste posizioni europee stanno evolvendo col tempo di nuovo una maggioranza di elettori in tutti in tutti i partiti sottoscrivono questa tesi cioè che bisogna rispettare gli impegni europei le percentuali sono differenti tra centro-sinistra azione viva eh sì azione viva azione va bene non mi viene altro termine Italia viva e azione il movimento 5 e 6 scende al 60% in Fratelli d'Italia ma noi abbiamo fatto una domanda ulteriore le abbiamo chiesto ok ma se questo significa ulteriore Italia la spesa pubblica che cosa fareste bene il 58% degli elettori del PD e il 62% degli elettori di azione tengono cioè dicono ok però dobbiamo rispettare i nostri impegni in fondo perché questo può essere utile anche per il futuro gli elettori di Fratelli d'Italia si rovesciano completamente non più di un quarto degli elettori di Fratelli d'Italia sosterrebbe questa posizione se il se comportasse come inevitabilmente comporterebbe dei sacrifici per il per il paese ultimi due slide vedo Francesco che scalpita che sono forse oltre no posso andare allora Cina e Russia il quadro è leggermente diverso per quanto riguarda la Cina rispetto alla Russia per quanto riguarda la Cina abbiamo chiesto varie domande una di queste se l'influenza politica l'influenza economica della Cina fosse eccessiva che cosa che cosa chioviamo che da questo punto di vista azione Italia Viva e il centro-destra sono più vicini rispetto a Movimento 5 Stelle e centro-sinistra per quanto riguarda l'influenza politica della Cina quindi diciamo c'è una varietà di giudizi anche se le differenze non sono estremamente grandi sull'influenza economica sono diciamo nettamente più preoccupati gli elettori di centro-destra di quanto lo siano gli elettori di centro-sinistra con Movimento 5 Stelle e azione in posizione intermedia quindi sulla Cina diciamo così il nuovo governo se si dovesse venire a formare sicuramente avrà una posizione più rigida di quello che altri governi hanno avuto in passato l'ultimo caso forse diciamo anche quello più attuale è l'atteggiamento nei confronti della Russia abbiamo fatto tante domande su questo io qui ne segnalo quattro una se le influenze russe nella vita politica italiana fossero fondate un'altra su chi fosse il principale responsabile nei confronti del conflitto con l'Ucraina la terza se erano favorevoli o contrari alla fornitura di armi a l'Ucraina la quarta sostegno nei confronti delle sanzioni ci sono interessanti differenze che da un lato uniscono il centrosinistra con azione e dall'altro fondono il centrodestra con il movimento 5 stelle gli elettori centrodestra sono i più scettici sul fatto che le influenze russe nel nostro paese siano fondate al contrario del centrosinistra e di azione slash Italia Viva sono anche un pochino meno convinti che la Russia sia la principale responsabile c'erano anche altre voci oltre la Russia c'era la Nato l'UE insomma gli Stati Uniti ovviamente è una maggioranza ma non è così forte come quella di nuovo del centrosinistra e di azione con il movimento 5 stelle più vicino al centrodestra il sostegno per la fornitura di armi lo sappiamo già non è mai stato popolare ma sicuramente è del tutto impopolare tra gli elettori di centrodestra il 43% sottoscrive questa ipotesi le sanzioni anche qui tiepido sostegno il 57% degli elettori di centrodestra è favorevole alle sanzioni nei confronti della Russia contro l'80% di centrosinistra di azione quindi diciamo c'è un alcuni settori nei quali azione e il centrosinistra vanno più d'accordo i 5 stelle o il centrodestra e altri dove succede il contrario ultimo quanto importanti sono queste differenze diciamo così a destra e a sinistra qui ho preso le due coalizioni diciamo più corpose cioè la coalizione centrodestra PD e alleati e la coalizione centrodestra nel suo complesso e vedete che questi numeri indicano quanto distante è la sinistra rispetto alla destra quindi se il valore è negativo vuol dire che ci sono molti più elettori di sinistra d'accordo se il valore è positivo che sono molti di più gli elettori di destra come vedete su sanzioni armi e influenze russe c'è una chiara spaccatura tra centrodestra e centrosinistra quindi qualsiasi governo di centrodestra avrà un po' la vita difficile a continuare su questi impegni sulla Cina è il contrario sono il centrosinistra a essere più diciamo meno preoccupato dell'influenza della Cina nel nostro paese cosa ci lascia tutta questa storia beh ci lascia sostanzialmente il fatto che ci sarà forse difficoltà a fare la coalizione ma il bello deve ancora venire il bello sarà vivendo cioè quando avremo il governo in azione e dovrà gestire questi dossier torno a ripetere è solo una fetta di una torta molto più ricca invito tutti a leggere con attenzione le anticipazioni che abbiamo fatto nei giorni passati scusate se ho preso troppo tempo va benissimo va benissimo grazie al professor Pierangelo Isernia per ora perché poi qui c'è con me Leo Goretti che raccoglie le vostre domande che potete fare ovviamente il professor come anche tutti i nostri ospiti sono a vostra disposizione allora mi sono arrivati un paio di messaggi durante l'illustrazione del professore che chiedevano l'UMI sul rapporto il rapporto è già pubblicato lo trovate su www.yai.it non page quindi è possibile leggerlo come ci sono degli approfondimenti su affari internazionali sono quattro articoli che parlano di questo prima di sentire i nostri autorevoli ospiti torno a ripetere aggiungiamo se possibile ancora qualche elemento sul tavolo poi per il dibattito Ettore Greco vicepresidente dell'OIAI qualcosa da dirci credo soprattutto riguardo ai rapporti con l'Europa grazie Francesco buongiorno a tutti io appunto mi limiterò ad alcune essenzialmente alcune notazioni sul tema dei rapporti con l'Europa noi sappiamo da tempo che questi rapporti sono un tema controverso che divide profondamente gli italiani quindi non dovrebbe stupire che per esempio come risulta dal nostro sondaggio il 30% degli italiani dichiara che voterebbe per uscire dall'Unione in caso di referendum in realtà però la fiducia dell'Unione è oggi significativamente più alta di qualche anno fa ricordo che aveva toccato punti molto bassi in particolare durante la crisi del debito sovrano e nei primi mesi dell'epidemia la serie storica indica che l'evoluzione dei sentimenti verso l'UE è nel complesso positiva lo confermano anche gli ultimi dati di Eurobarometro se prendiamo le domande standard sull'immagine complessiva dell'UE la fiducia nelle sue istituzioni i legami di cittadinanza eccetera evidenziano questi dati due cose primo che l'atteggiamento degli italiani è sostanzialmente in linea con quella degli altri paesi dell'eurozona laddove in alcuni momenti nel passato recente era anche nettamente più negativo oggi per esempio in Francia l'euroscettisismo risulta molto più diffuso che in Italia secondo rispetto all'inizio dell'anno le variazioni sono praticamente nulle sono molto limitate cioè non è cambiato molto negli ultimi mesi che sono i mesi poi della guerra quindi si potrebbe ottimisticamente concludere che è un fatto che uno dei capisaldi della strategia di Putin quello di mettere l'opinione pubblica europea contro i governi e contro Bruxelles per il momento almeno non sta funzionando per il momento quali sono stati allora i principali fattori che hanno determinato negli ultimi tempi questo atteggiamento relativamente più positivo degli italiani verso l'Europa direi che il fattore decisivo è stata la capacità dei paesi membri delle istituzioni europee di dare risposte collettive efficaci alle varie crisi che si sono succedute venendo incontro questo è un punto da sottolineare anche alle particolari debolezze e difficoltà di paesi come l'Italia quindi fondamentale è stato il ruolo svolto dalla banca centrale europea ma non meno poi il recovery fund è il congelamento del patto di stabilità ma ha pesato anche la capacità di risposta collettiva all'epidemia e alla crisi urreina i dati indicano che gli italiani giudicano positivamente quanto l'Unione ha fatto su tutti questi fronti e segnalerà in questo contesto il favore piuttosto alto di cui gode secondo il nostro sondaggio la Fonderlion rispetto ad altri leader europei è un dato secondo me molto significativo anche numericamente ora quindi è chiaro che la sfida è la crisi energetica collegato ovviamente alla guerra e senza dubbio l'atteggiamento futuro dell'opinione pubblica nei prossimi mesi dipenderà dalle risposte che saprà dare l'Unione dal suo grado di coesione di fronte a questa emergenza di qui anche l'importanza di quello che si deciderà nei prossimi giorni se non nelle prossime ore comunque nel complesso quello che è accaduto è che gli italiani si sono sentiti un po' più protetti dall'Unione e un po' meno sotto pressione da parte delle istituzioni comunitarie per il rispetto di alcune regole che erano oggetto di forte contestazione questo atteggiamento più positivo verso l'UE è precedente come ha detto il professor Iserni all'insediamento del governo Draghi infatti l'ultimo rebound a favore dell'Unione che è stato molto significativo risale appunto a metà del 2020 quando è stato varato il recovery fund ciò non significa che il governo Draghi non abbia avuto un impatto positivo lo ha certamente avuto abbiamo visto come il voto sulla politica europea di Draghi è molto più alto di quello per i suoi predecessori e anche il ruolo dell'Italia in Europa viene considerato anche questo lo sottolineava il professor Iserni più forte che in passato nonostante il fatto innegabile che noi sappiamo che Draghi su alcuni dossieri importanti per esempio l'immigrazione ricordiamo all'inizio del governo e anche l'energia abbia avuto grandi difficoltà non diverse da quelle dei precedenti governi a far passare le sue posizioni o posizioni diciamo in linea con gli interessi nazionali chiaramente molto ha contato la percezione che Draghi fosse in ogni caso un interlocutore credibile ed ascoltato a Bruxelles ora ieri Giorgia Meloni ha assicurato che l'Italia per citarla rilancerà la sua credibilità direi che questo rilancio non sarà così facile considerato l'alto livello di credibilità del suo predecessore e qui vengo ai problemi che potrebbe avere il nuovo governo l'ultima campagna elettorale è stata indubbiamente molto diversa da quella del 2018 la retorica populistica contro i burocrati di Bruxelles ha trovato molto meno spazio così come le idee di uscita dall'Unione dall'Euro eccetera i partiti che avevano in passato usato questa retorica e sostenuto queste posizioni hanno cercato in vari modi di apparire rassicuranti sono però rimaste alcune ambiguità di non poco conto abbiamo sentito per esempio la Meloni dire che la pacchia è finita e non è in verità molto chiaro cosa intenda usare toni molto aspri contro la Germania che peraltro sappiamo in Italia fanno purtroppo presa e anche rispolverare l'idea di rimettere in dubbio la supremazia del diritto europeo su quello nazionale che qui verrebbe preso alla lettera a un'exi a una italexi al di là di queste esternazioni e anche delle esternazioni di Berlusconi recente rimangono quindi parecchie incertezze sulla politica europea del nuovo governo inclusa la politica delle alleanze inoltre come questo è l'ultimo punto come risulta il nostro sondaggio i sentimenti anti europei direi una forte dividenza verso l'Europa è molto più radicata e diffusa nell'elettorato di centrodestra e si noti non tanto appunto in quello di Forza Italia ma in quelli della Lega e di Fratelli d'Italia quindi alla Meloni sarà richiesto certamente un sovrappiù di leadership diciamo così e resta da vedere se ne sarà all'altezza non sottovaluterei il rischio che di fronte alla difficoltà con cui il governo dovrà misurarsi risorga la tentazione di giocare allo scarico a barile con Bruxelles come spesso accaduto in passato in realtà anche con governi di centro-sinistra intanto direi che è essenziale che almeno alcune delle incertezze e ambiguità che menzionavo siano chiarite c'è chi propone a tal fine un confronto parlamentare come sapete in tempi brevi sulla politica estera potrebbe essere un'occasione utile anche per chiarire alcuni aspetti della politica estera che sono rimasti in ombra durante la campagna elettorale naturalmente i veri banchi di trova saranno quelli su cui noi all'OIAI mi piace ricordarlo abbiamo da sempre posto l'accento e qui concludo e cioè il rispetto degli impegni la capacità di fare proposte che milino a rafforzare l'integrazione perché questo è indubbiamente nel nostro interesse nazionale e la capacità anche di trovare alleanze efficaci per far andare avanti queste idee grazie grazie Ettore avete ascoltato dal presidente il nome dei nostri ospiti con i quali adesso entreremo nel vivo per sentire appunto le loro impressioni su questo li ringraziamo per aver accettato con grande cortesia l'invito dell'istituto e dell'università di Siena allora molto felice di presentarvi Elsa Fornero la conoscete insegna economia all'università di Torino e al collegio Carlo Alberto professoressa benvenuta ancora e le sue impressioni grazie mi fa molto piacere essere qui ho accettato con piacere appunto di partecipare anche all'edizione di quest'anno primo perché si impara sempre e secondo perché credo che da questi chiamiamoli esercizi da questi sondaggi e dall'analisi delle risposte ai sondaggi io credo che possa nascere o almeno si possa rafforzare un senso di cittadinanza europea io credo moltissimo che gli orientamenti gli atteggiamenti delle persone siano molto influenzati dalle informazioni che hanno dalla discussione pubblica su fatti o presunti fatti dalla conoscenza che i cittadini hanno e questi incontri io credo che si basano su sondaggi analizzati credo che possano servire anche a un ruolo pedagogico in questo senso per riallacciarmi a quanto è stato detto dal presidente nell'intervento che mi ha preceduto vorrei dire che io non mi stupisco tanto dei risultati non mi stupisco nel senso che partecipando a moltissimi incontri con giovani o anche meno giovani un po' questa diminuzione di rabbia nei confronti dell'Europa che c'è stata negli anni passati e che il populismo in qualche misura ha alimentato con un'operazione anche di disinformazione talvolta disonesta il populismo e il sovranismo metto insieme questo non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto un governo forse unico paese tra almeno tra i paesi fondatori dell'Unione Europea ad avere avuto un governo al tempo stesso dichiaratamente populista e dichiaratamente sovranista bene queste cose che sono di tipo propagandistico ma che rasentano anche le falsità nella comunicazione evidentemente hanno un effetto però poi la gente si accorge la gente cerca di capire cerca di informarsi e noi non dobbiamo dimenticare che oggi tra questi che voi avete intervistato ci sono già per esempio molti ragazzi che hanno frequentato in anni più o meno recenti programmi Erasmus e questi questa commistione che si è formata e che si va formando sempre di più io credo che possa aiutare a formare uno spirito e una cittadinanza europea in questo senso il sondaggio mi ha dato un po' di speranza di nuovo qualcuno ha detto il bello viene ora e io che in questi giorni sono abbastanza pessimista devo dire che mi auguro che veramente ci sia qualcosa di bello in quello che ci sarà nel futuro prossimo dell'Italia ma da questi sondaggi forse qualche piccolo sprazzo di luce si può vedere c'è questa diminuzione ripeto del anti-europeismo che è stato alimentato c'è questo questa sensazione che essere dentro è un vantaggio per tutti noi singolarmente non è una questione astratta del paese che riguarda le grandi strategie la collocazione del paese come tale la visione del mondo no riguarda la vita di tutti noi sentire il passaggio perché gli italiani lo ricordano dall'epoca in cui l'Europa era attacciata soltanto di una politica austera di volerci imporre l'austerità invece un'Europa che in qualche misura ci aiuta direttamente e l'ha fatto negli anni passati e gli italiani hanno compreso che per esempio il PNRR largamente finanziato sia pure largamente a debito dall'Unione Europea è qualcosa che corregge l'impressione in base alla quale l'Europa ci tratta malamente non ci vuole bene e comunque ci tratta peggio di altri paesi questo io credo che sia importante e che abbia delle ripercussioni anche su quello che succederà in politica in politica a me sembra che la cosa anche a vedere dalle opinioni espresse ci sia quasi stato un travaso dall'ambito della destra dalla destra che noi consideravamo più moderata a una destra che invece consideravamo più estrema ma che anche in campagna elettorale si è forse dimostrata meno estrema quindi se posso dire rispetto ad atteggiamenti dei leader per esempio della Lega o di Forza Italia l'opposizione e anche la campagna elettorale di Fratelli d'Italia è apparsa agli italiani meno aggressiva anche nei confronti del governo meno estrema sull'Unione europea più filo atlantica in maniera credibile meno tentennante su sanzioni e su aiuti all'Ucraina e beh questo io trovo un dato positivo poi staremo a giudicare io non voglio esprimere qui una particolare fiducia nei confronti di un governo di destra io lo chiamerei di destra e neanche di centrodestra ma quello che mi pare di poter dedurre dai dati che avete presentato e dai dati elettorali poi io sono un'economista e non una politologa e quindi mi scuso con i colleghi che sicuramente hanno una diversa capacità di lettura dei dati nell'ambito delle scelte politiche molto più di me ma a me pare di poter capire che qui gli italiani hanno anche detto oltre a attenzione noi siamo all'interno dell'Europa noi siamo comunque all'interno dell'alleanza atlantica della nave mi pare che abbiano detto che certe politiche aggressive certe politiche isolazioniste che certe politiche nettamente contrarie all'Europa per l'appunto non vanno più e quindi tutto sommato questo potrebbe essere un elemento che ci fa indurre a qualche non dico ottimismo ma a un minor pessimismo c'è anche qualcosa che vorrei dire che forse gli italiani hanno capito ed è sempre stato un po' alla base del loro europeismo io credo e cioè il fatto che noi con l'Europa possiamo forse correggere i nostri difetti più strutturali come un'eccessiva tendenza al debito perché lì c'è una dimostrazione che sia pure con prudenza e con buon senso però le politiche di rientro dal debito debbano essere seguite e quindi un'Europa che ci permette un po' di correggere e questo è sostanzialmente vero questo forse gli italiani l'hanno capito ma è sostanzialmente vero perché perché la politica economica di un paese come l'Italia non è più completamente autonoma non possiamo fare la politica monetaria perché la fa l'Europa e quanto alla politica fiscale non abbiamo i vincoli stretti dei trattati in questo momento sospesi e forse in via di revisione ma comunque non abbiamo tutti i gradi di libertà l'Europa sotto questo profilo indirettamente ci induce a prendere certe strade che gli italiani intuiscono essere meno negative di quelle del passato e la seconda cosa è che qui forse non c'è perché diciamo il sondaggio è prevalentemente sui temi della geopolitica e dell'atteggiamento in confronti dell'Europa ma c'è la questione dei diritti ora noi abbiamo tanto ci siamo scandalizzati in questi giorni per esternazioni di rappresentanti politici dell'estero che hanno detto vigileremo osserveremo però noi facciamo parte di questa Europa e io mi aspetto che ci sia anche non una vigilanza poliziesca ma un qualche cosa che dice noi siamo europei noi siamo per i diritti all'interno dell'Europa e qualcuno che sta in Europa e non li rispetta e beh vedremo come trattarlo ma certo che è normale ma anche su questo il fatto di essere in Europa mi pare che possa dare agli italiani e che questo sia stato in qualche misura colto dai nostri concittadini una relativa tranquillità non cancelleremo le cose che sono i valori dell'Europa poi si possono sempre modificare certe cose certo perché cambia la realtà e quindi questo è assolutamente fattibile però i valori fondamentali sono là e quindi questo è quello che mi sembra che gli italiani chiedano con questo loro maggiore sentimento europeo e credo che Giorgia Meloni questo l'abbia capito abbastanza bene se dobbiamo vedere la prudenza dei suoi atteggiamenti diciamo da quando forte del successo elettorale sa che forse avrà molto molto rapidamente una grandissima responsabilità quindi anche se i motivi per essere fiduciosi nel nostro paese io vedo in questo sondaggio forse qualche elemento di chiaro in più rispetto invece alle nubi che si approssimano per esempio sul lato economico e che delle quali qui non si parla ma che certamente sono una delle grandi preoccupazioni degli italiani quello che si vede chiudo qui è che la grande incertezza nella quale la vita di tutti noi è immersa induce a essere molto più propensi a guardare l'emergenza del giorno che è l'emergenza anche qui a radici lontane ma che è quella climatica e a forse trascurare un poco quelle altre che per me cominciano per esempio dall'occupazione e dal lavoro mi fermo qui grazie grazie davvero per ora la professoressa Fornero era il momento di presentarvi Vittorio Emanuele Parsi lo conoscete conoscete bene anche lui insegna relazione internazionale all'università cattolica di Milano dirige la SERI l'alta scuola di economia e relazioni internazionali è in libreria con Titanic naufragio cambio di rotta per l'ordine liberale quanto mai diciamo attuale per il mulino allora professore editorialista ovviamente di importanti quotidiani nazionali le sue impressioni grazie per l'invito intanto è un piacere rivedere tanti amici anche se da lontano io ho una lettura direi opposta a quella di Anzia Fornero nel senso che nel misurare il sondaggio misura l'opinione pubblica chiaramente cosa fanno non fanno i governi però nel misurare l'opinione pubblica a me sembra che esiste emerga un'opinione pubblica che non ha nessun non ha né un'etica dei valori né un'etica della responsabilità per così dire cioè molto poco influenzato dal cosiddetto fact checking lo diceva prima Nicolò Russo Perez cioè il 55% degli italiani non giudica appropriato quello che ha fatto Draghi avendo Draghi messo il 3,5% del PIL per sostenere per sostenere gli italiani nella crisi energetica quindi vuol dire che la gente semplicemente alimenta i suoi pregiudizi ha un'opinione estremamente immatura è mostruosamente vulnerabile agli argomenti della propaganda russa perché se andiamo a vedere quello che è il sostegno all'invio di armi quello che è addirittura l'attribuzione di responsabilità di questa guerra che dovrebbe essere particolarmente evidente sono numeri impressionanti se li incrociamo con altri dati che conosciamo emerge un anti-americanismo spaventoso l'Italia in Europa è il secondo paese europeo essendo il primo la Turchia in termini di anti-americanismo è 20 punti sotto la media degli altri paesi europei cioè questi sono i dati non mi pare che emerga neanche una volontà di autocorreggere i propri dati perché anzi c'è la solita dichiarazione per cui sì sì certo faremo i compiti ma basta chiedergli ma anche se costasse e se costasse vedremo per cui è la classica Italia secondo me questo è particolarmente grave non ne faccio una colpa all'opinione pubblica il dibattito pubblico italiano è sconcio prendete in considerazione tutti i programmi televisivi di prima serata e vedete chi c'è ascoltate cosa dicono francamente è un miracolo che l'opinione pubblica non creda ancora alla terra piatta però questo è il punto questo è un problema secondo me grosso di fallimento della classe politica complessivamente e anche della classe della classe giornalistica questi sono dati secondo me strutturali preoccupanti cosa preoccupa me è vero c'è un rimbalzo su questo innegabile Ettore c'è un rimbalzo della cattiva opinione sull'Unione Europea ma è anche frutto del fatto che è arrivata una pioggia di soldi per cui gli italiani mi sembra che guardino molto a una logica ahimè di corto respiro e si sarebbe detto ai miei tempi un po' bottegaia per cui di fronte alla manna che scende dal cielo è ovvio che iniziano a considerare l'Unione Europea in maniera diversa vediamo adesso quando la manna non scende più e quando ci sarà una spinta necessaria a qualche misura di carattere economico non voglio entrare nel campo della professoressa Fornero perché un'inflazione alta così è evidente che provocherà delle conseguenze economiche pesantissime e contemporaneamente richiederà misure di contenimento che almeno nel breve periodo accentueranno la sensazione di disagio quindi io sono molto curioso di vedere come andrà a finire a me cosa preoccupa di questo elettorato quando avete fornito lo spacchettamento per per flussi elettorali diciamo così beh intanto a me sembra ma questo è un mio punto di vista assolutamente soggettivo che c'è una una parte consistente di italiani che se sommiamo fratelli d'Italia Lega 5 Stelle vota partiti diciamo anti-establishment perlomeno eh come primo come ultimo passo ogni volta prima di uscire dal sistema e infatti a questi flussi elettorali vanno sommati no poi i flussi dell'astensionismo per cui mi sembra che ci sia un gran pezzo di paese che è per mille motivi eh non ci crede più e questo secondo me è un dato preoccupante perché i sondaggi li fanno li leggono anche i leader politici abbiamo visto adesso l'anziano di Arcore eh le cose che va che va in giro sostenendo e quello sappiano che si nutre oltre che vabbè diciamo che si nutre di sondaggi e di altro di cui forse ormai si nutre meno vista l'età eh figuriamoci se non guarda queste cose mi pare anche che eh ammesso che Meloni sia abbia completamente un quadro coerente europeista atlantico fino in fondo nella sua nella sua concezione io penso che in parte ce l'abbia in parte Meloni sa che ha preso l'occasione della vita per cui non può sbagliare perché non avrà una seconda è contemporaneamente preoccupata di fronte alla gravità del compito e quindi sta cercando di capire come fare a mettere insieme quello che dovrà cercare di fare con quello che potrebbe pensare della vita del mondo però mi pare che eh l'elettorato di riferimento no? purtroppo anche tutta una parte diciamo così seconda e terza e quarta file sia su posizioni che restano quelle diciamo così terza posizioniste tra tra est e ovest molto poco molto poco liberali e l'elettorato di l'elettorato di di fratelli d'italia di lega e di e di come si chiama e di cinque stelle guardando il vostro rapporto complessivamente a me sembra meggere come piuttosto eh un poco attento all'elemento ai valori liberali per così dire eh molto molto prosaico eh questo e quindi alla fine è continuamente preda di proposte politiche che dicano ma noi possiamo fare quello che vogliamo sostanzialmente a me questo preoccupa molto perché eh concludo preoccupa molto perché siamo in presenza ad una crisi evidentemente pesante ma anche di una guerra eh e la guerra polarizza cioè la guerra dovrebbe aiutare a dire ok 51-49 sto da questa parte non sto da quest'altra e beh purtroppo nella polarizzazione c'è un terzo abbondante degli italiani che sceglie la parte sbagliata per così dire o si illude di poter stare in mezzo no? Questo a me lascia molto preoccupanto per le scelte dei prossimi cinque anni eh questo governo dovrà immediatamente affrontare questioni importanti come sostenere o non sostenere l'Ucraina sostenere non a chiacchiere sostenere mandando le armi che peraltro fino adesso abbiamo mandato in misura estremamente esigua eh come Italia per cui faccio fatica a vedere un governo che ha un'opinione pubblica che si è costruita in questo modo anche grazie alla leadership politica e ai leader politici nella maggioranza a nome di Salvini e Berlusconi come farà mantenere una posizione coerentemente atlantica e come possa non rappresentare il ventre molle una sola dell'alleanza ma anche dell'unione e mia convinzione è che l'unione non sopravviverebbe eh alla alla vittoria di Putin in in Ucraina quindi i dati mi preoccupano se li metto insieme al futuro governo mi preoccupano un po' di più poi finché non siamo morti siamo un vivi per cui viva l'ottimismo anche da parte mia sono convinto che riusciremo comunque a prevalere grazie grazie professor Parsi allora professoressa di scienze politiche all'università di Bologna e Sofia Ventura cauto ottimismo diciamo nel primo intervento pessimismo nel secondo lei ha scritto i leader e le loro storie che impressione ha avuto insomma tra le due posizioni che ha sentito qual è la sua buongiorno innanzitutto a tutte grazie del dell'invito ho visto ho letto con grande interesse questi questi dati e mi fa molto piacere poterne discutere in questa sede e ascoltare diciamo le diverse interpretazioni beh io devo dire non so se per affinità disciplinare ma tendo a vedere più il bicchiere mezzo vuoto come il collega parsi e devo dire che anche se alcuni dati come è stato sottolineato fino ad ora risultano più confortanti rispetto al passato beh non abbastanza confortanti quelli diciamo che riguardano temi di più lungo periodo e sono piuttosto sconfortanti quelli che riguardano invece temi di più breve periodo legati in particolare alla guerra seguita all'invasione russa dell'Ucraina e a problemi che ne seguono come appunto quelli della della crisi energetica e della gestione della crisi energetica parsi ha parlato di un atteggiamento anti establishment io in realtà parlerei proprio della del fatto che noi cogliamo a mio avviso da questi dati un atteggiamento che potremmo forse chiamare antisistema cioè faccio il passo ulteriore che che parsi non ha ancora voluto fare ma rispetto a che cosa se appunto il riferimento del nostro sistema è la collocazione dell'Italia in un'Europa che deve andare diciamo deve integrarsi sempre di più quindi un atteggiamento favorevole a una maggiore integrazione un'Europa che sia inserita saldamente nell'alleanza euro-atlantica e che oggi come conseguenza di questo di questi posizionamenti sostiene convintamente l'Ucraina e anche concretamente noi appunto con aiuti di vario tipo in primis aiuti militari ecco se il nostro riferimento all'essere pro sistema in questa fase storica è questo beh noi cogliamo la presenza nell'opinione pubblica italiana di una forte presenza antisistema che poi si spalma in maniera differente ovviamente grazie al sondaggio che poi ci indica la collocazione politica dei rispondenti in maniera diversificata tra centrodestra Movimento 5 Stelle e centrosinistra per cui noi vediamo questo atteggiamento antisistema particolarmente forte nella destra ormai chiamiamola questo nome nella destra in particolare Fratelli d'Italia e Lega io ormai metto piccola parentesi anche Forza Italia nella destra perché mi sembra che non sia minimamente capace di svolgere un ruolo moderatore come auspicava il New York Times ieri ieri l'altro non mi ricordo ecco mi sembra che questo ruolo ormai l'abbia l'abbia perduto comunque dicevo un atteggiamento più antisistema in questi partiti della destra in buona misura anche nel Movimento 5 Stelle pro sistema invece in maniera nettissima il centro di azione e Italia Viva ma che però sappiamo quanto misura nel paese insomma al 7-8% e un po' meno ma significativamente il partito democratico anche se sfugge un po' all'analisi che è stata condotta la collocazione della sinistra-sinistra diciamo dei partiti che si collocano a sinistra del partito democratico perché vengono misurati soltanto cioè o viene misurato il PD mi sembra almeno da quello che ho visto o viene misurata la coalizione di centro-sinistra che contiene al suo interno anche la formazione diciamo a sinistra del partito democratico sulla quale quindi non abbiamo molte informazioni anche se naturalmente si tratta di una formazione politica con un consenso molto molto limitato ecco quindi magari diciamo con un peso con un peso relativo e appunto voglio essere breve però mi sembra che gli indicatori di questo atteggiamento antisistema siano tantissimi io appunto mi sono segnata tra quelli che sono che emergono dai dati il giudizio sul governo Draghi il fatto che il governo Draghi conosca addirittura una flessione e che questa flessione sia dovuta soprattutto agli elettori del Movimento 5 Stelle e della della destra nel giudizio che viene dato appunto complessivamente al governo proprio a causa in particolare della crisi ucraina è abbastanza significativo e anche molto significativo ma l'avete già detto lo scostamento dalla realtà che si rileva relativamente alla gestione della crisi energetica impressionante questo è veramente impressionante ma questo ci dice anche perché poi bisogna sapere i rispondenti coloro che rispondono che cosa hanno in mente quando si dice la crisi energetica la gestione della crisi energetica quindi forse alcuni di loro hanno in mente il fatto che avendo voluto comunque partecipare all'alleanza contro Putin si sia peggiorata la situazione per appunto relativamente alla crisi energetica quindi non è detto che pensino semplicemente alla gestione ad esempio al price cap o altri aspetti più economici ma magari appunto più di posizionamento internazionale e quindi e questo ovviamente peggiora le nostre considerazioni su temi di più lungo periodo come l'uscita dall'Unione Europea o il trattamento è ingiusto beh anche lì non è che proprio ci sia ovviamente condividiamo il problema con altri paesi in particolare la Francia dove abbiamo appunto un grande partito come il fronte il rassemblement nazionale di Marine Le Pen che ha un consenso più o meno simile a quello di Fratelli d'Italia di di Giorgia Meloni ma comunque il fatto che più o meno in media un elettore su tre uscirebbe dall'Unione Europea con tutto quello che significherebbe questo non mi sembra un dato un dato rassicurante e e anche questa percezione del trattamento ingiusto è un classico frame populista no? questo del trattamento ingiusto gli altri loro l'establishment ci trattano male ovviamente sempre riprendo anche un po' il discorso che faceva Manuel Parsi questa percezione quasi adolescenziale e poco responsabile degli elettori che sostanzialmente si aspettano sempre che arrivi qualcuno a sistemare le cose per loro e quindi in questo caso l'Europa l'Europa matrigna che tratta ingiustamente sia appunto il tema dell'immigrazione e del bilancio sull'alleanza internazionale anche qui ho notato l'antiamericanismo mi permetto di fare un'osservazione a Pierangelo perché poi magari appunto sbaglio io forse però parlando dell'alleanza con l'Unione Europea o dell'alleanza con gli Stati Uniti in realtà si può generare una confusione io avrei avuto difficoltà a rispondere perché comunque noi facciamo parte dell'Unione Europea non siamo alleati dell'Unione Europea quindi in qualche modo ho l'impressione che con questa domanda si sovrappongano un po' di questioni per cui magari appunto un rispondente potrebbe essere favorevole comunque a una maggiore integrazione europea e al tempo stesso a un ancora più importante sodalizio con gli Stati Uniti nell'alleanza Euro-Atlantica e questo non poteva essere in qualche modo espresso mi permetto questa nota perché appunto mi sono chiesta io cosa avrei risposto avrei avuto qualche qualche problema però se noi poi guardiamo comunque i dati e quindi la somma di coloro che rispondono o Unione Europea o Stati Uniti anche qui i dati non sono per niente confortanti e ripetono comunque diciamo l'atteggiamento populista antisistema della destra e del e del Movimento Cinque Stelle e vado veloce non voglio portare via troppo tempo l'altro dato più eclatante è quello sulle armi all'Ucraina quello è veramente inquietante e perché inquietante tra l'altro perché qui noi vediamo che non solo troviamo appunto i partiti della destra e il Movimento Cinque Stelle che sempre manifestano all'interno del loro elettorato queste posizioni antisistema però qui c'è anche il centro-sinistra e questo ci fa anche pensare in prospettiva adesso ci arrivo in conclusione appunto sul sul governo appunto sulle maggioranze che si formeranno in Parlamento su questi temi se la guerra appunto va avanti e dovremmo continuare ovviamente ad approvare l'invio l'invio di armi insomma favorevoli adesso qua sotto i dati il 57% degli italiani è in disaccordo e il 60% nel centro-sinistra quindi questo è abbastanza problematico vado velocissimamente alla conclusione quindi l'opinione pubblica ha presenza degli aspetti problematici quindi c'è da chiedere che tipo di sostegno potrà essere per una politica chiaramente europeista atlantista pro-ucraina tanto più che il governo che probabilmente andrà formandosi sarà di una leader che negli ultimi cinque minuti si è definita convintamente atlantista e che dovrà mantenere questa posizione con degli alleati che non lo sono più in fondo diciamo che sono molto ambigui e non solo un'opinione pubblica scivolosa ma una delle posizioni nell'elettorato del suo partito che sono che vanno in direzione contraria noi sappiamo come i partiti che giocano sull'estremismo lo sappiamo storicamente hanno poi difficoltà quando cambiano direzione a portarsi dietro il proprio elettorato quindi Meloni avrà questo questo problema e qui si parlava della leadership ovviamente sarà in gioco la leadership cioè sarà in gioco il tipo di leadership che lei vorrà sostanzialmente affermare no? Quindi se si vuole affermare come una leader che ha una rilevanza a livello internazionale oppure se sarà più diciamo costretta a seguire gli umori dell'elettorato italiano e in particolare del suo del suo elettorato e mi limito soltanto a citare il problema che è stato più volte evocato la questione dei media perché appunto questi posizionamenti dell'elettorato dell'opinione pubblica ovviamente dipendono tantissimo come noi sappiamo molto bene da da come le informazioni da come le informazioni vengono date quindi sia l'importanza che viene data a certi temi sia il modo in cui vengono presentati questi temi no? Per cui ha anche tutta questa improvvisa attenzione alla questione energetica che non meraviglia certo ma non meraviglia anche se io guardo un po' i talk show non meraviglia perché il tema è ribadito continuamente attraverso una narrazione assolutamente drammatizzante che non che ci fa vedere tutti i negozi che sono costretti a chiudere perché non riescono a pagare le bollette non a quello che ha fatto il governo quello che si potrebbe eventualmente fare le opzioni sul campo ma c'è semplicemente una drammatizzazione quindi anche questa improvvisa attenzione un po' appunto molto prosaica come spiegava appunto Vittorio Emanuele ma potrebbe anche andare a nutrire ovviamente un atteggiamento antisistema e populista quindi sulla questione dei media io credo che noi dovremmo dovremmo molto interrogarci forse anche se mi permettete visto che il tema secondo me in Italia sta diventando veramente problematico e grave cominciare a fare anche da parte diciamo come intellettuale un po' di lobbying perché il problema sta diventando davvero grave grazie adesso ascoltiamo il quarto degli ultimi interventi poi la professoressa Fornero ha chiesto di aggiungere qualcosa c'è il professor Isernia che dovrà dire qualcosa riguardo alcune vostre osservazioni Maurizio Caparara tanti incarichi fa tante cose belle oggi ci piace presentarlo come membro del comitato esecutivo dell'OIAI allora Maurizio non ti saranno mancate innanzitutto benvenuto li accenni alla responsabilità del mondo dei media poi nella formazione dell'opinione pubblica sì sì guarda io interverrò a titolo personalissimo e assolutamente partendo da tre dati di fatto se siamo qui collegati grazie a diffuso affari internazionali grazie a luce purtroppo purtroppo Maurizio sentiamo sentiamo male vuoi provare magari ad avvicinarti abbiamo proprio difficoltà nel sentire le tue parole si sente meglio sì allora dico ringrazio tutti per l'opportunità parlerò a titolo strettamente personale e partendo da tre dati di fatto una platea radunata dall'istituto affari internazionali è di per sé composta da persone che hanno a cuore l'Unione Europea diciamo la sua sorte e che gli equilibri geopolitici nel mondo sia a noi vicino sia in quello lontano sono più mobili di quanto erano in fasi precedenti e che questo comporta dei fattori come dire naturali da una parte di tendenze alla disgregazione dall'altra di come dire di integratori di concimi che fanno fermentare questo genere di visioni spesso portati dall'esterno e in questa in questo contesto i dati del sondaggio sono da una parte per una parte molto positivi perché la crescita di fiducia nel ruolo dell'Unione Europea è indubbiamente un elemento buono indiscutibilmente buono allo stesso tempo io credo che dobbiamo stare molto attenti a evitare una gratificazione effimera come quella che può derivare dai likes sui social network da dei segnali che poi non necessariamente si stabilizzano in rapporti e fiducia costanti abbiamo visto negli ultimi anni che la mobilità dell'opinione pubblica e anche proprio non solo dell'opinione pubblica quella speciale diciamo espressa palese ma anche dei sentimenti sotterranei nelle società è molto variabile è diventata molto gassosa soggetta a cambiamenti repentini qui ci sono due fattori che hanno portato alle valutazioni contenute nel sondaggio ad accentuare le tendenze che esistevano già da prima una è quella del covid-19 e l'altra è quella della guerra dal punto di vista del covid-19 è chiaro che quando aumenta il numero di persone indisponibili a rinunciare alla nostra partecipazione al ruolo dell'Unione Europea e questo ha anche una causa molto evidente la promessa dei fondi del Next Generation U che deriva non tanto da una nostra abilità nella capacità di mediazione ma dal fatto che se crolla l'Europa crolla l'Euro e sono se crolla l'Italia diciamo se crolla l'Italia crolla l'Euro e quindi nel momento di crisi economica dura del covid-19 i sostegni sono andati all'Italia più che ad altri e questo non può che ritemprare una corrente positiva nei confronti dell'europeismo però l'instabilità possibile nelle prossime fasi della storia del mondo non solo europea mette in guardia da considerare tutto questo stabile allora io credo che una delle mancanze dell'europeismo italiano e forse anche non solo italiano sta nella capacità di far comprendere l'utilità dell'Unione Europea diciamo costantemente facile comprendere nel momento in cui si prevede l'arrivo di molti soldi ma credo che nelle vie di comunicazione che adotta e nella postura che le viene attribuita non emerga quanto l'Unione Europea è utile ai cittadini e ai cittadini italiani in particolare anche prima del Next Generation Europe faccio un esempio non viene rivendicato a gran voce il fatto in tempi di crisi che avere il primo mercato unico al mondo permette alle nostre aziende da quelle più piccole a quelle più grandi di avere un livello di come dire di salute maggiore di quello che ci sarebbe se le cose non stessero così nel senso che se ne avvantagia è un nostro benessere adesso i prezzi dei biglietti aerei stanno risalendo tuttavia per anni sono scesi questo non sarebbe accaduto se non ci fosse stata la liberalizzazione dei servizi pubblici che è stata resa possibile dal mercato unico dell'Unione Europea per quanto ci riguarda allo stesso modo se un cittadino italiano va all'estero all'interno dell'Unione Europea e paga la stessa la stessa bolletta del proprio telefono cellulare questo è dovuto al fatto che è intervenuta l'Unione Europea per stabilire norme comuni sul roaming e tra l'altro neanche con grande facilità perché le resistenze sono state moltissime nel mezzogiorno d'Italia non si sa forse a sufficienza non viene percepito a sufficienza che molti dei fondi pubblici che archivano vengono dall'Unione Europea mentre per esempio in un paese distante e lontano la martinica francese su ogni opera pubblica c'è una targhetta sotto scritto questo è stato costituito con i fondi dell'Unione Europea ecco noi dovremmo secondo me e interesse dell'Unione Europea e interesse di chi in Italia vuole perseguire un proseguimento delle condizioni di benessere attuale e anche un miglioramento per le categorie che sono più in difficoltà e una condizione di stabilità e di pace e interesse quello di aumentare questa percezione io voglio sperare che con il piano nazionale di ripresa e residenza ci si stia preparando anche a far conoscere nei dettagli alle singole comunità locali quanto ciò che prenderà la luce in termini di opere pubbliche di servizi di digitalizzazione sia palesemente attribuibile all'Unione Europea e non per esempio come la parità di costo delle telefonate all'estero che non viene notificata a nessuno nel momento in cui se ne beneficia da questo punto di vista secondo me bisogna avere l'umiltà di trasmettere questi valori comunicando anche con semplicità mi viene la convinzione che sia più utile in certi casi di tante conversazioni critiche basate su price cap che non si chiama petto del prezzo o GDPR sigla critica per il regolamento dei soldi personali sarebbe il caso di ricristinare qualcosa tipo giochi senza frontiere di spiegare meglio quali sono i vantaggi dell'Unione Europea e avere quelle iniezioni di sano buonsenso che ci possono mettere al riparo da sussulti della storia costruiti anche con lo sviluppo di una percezione di cittadinanza comune giochi senza frontiere era una cosa che dava l'idea ridendo e scherzando tra le gare sportive anche comiche dell'appartenenza a una stessa famiglia questa cosa qui secondo me il sondaggio ci ricorda che va fatto per questo benissimo grazie a Maurizio Caraparada grazie anche al professor Vittorio Emanuele Parsi che ci lascia grazie per essere stato con noi prof adesso vi prego di essere grazie di essere molto brevi e telegrafici perché avevamo detto di terminare alle 13 abbiamo qualche domanda però c'è prima l'intervento ancora della professoressa Fornero poi ci sono delle precisazioni del professor Isernia professoressa a lei brevissima non sono ottimista neppure cautamente sono un po' meno pessimista sul sondaggio rispetto a quanto mi sarei aspettata questo vuol dire che bisogna impegnarsi anche per quello sforzo pedagogico che riguarda molto l'informazione qui sono assolutamente d'accordo con la professoressa Ventura e quindi bisogna qualche volta anche partecipare ai talk cercando di diminuire il tasso di risosità e di inutile drammatizzazione e pericolosa drammatizzazione questo solo vorrei dire che anche noi abbiamo una responsabilità non solo la classe politica ma anche noi che insegniamo nelle università che parliamo con le persone abbiamo una grandissima responsabilità se le cose si dicono in maniera schietta e sincera e informata le persone capiscono molto di più di quanto i politici che invece vendono illusione a tutto spiano non vogliano farci credere chiudo prof mi perdoni per aver giudicato insomma cautamente ottimistico il suo discorso e allora Leo Goretti ha raccolto un po' di domande e c'è anche qualcosa per il professor Isè sì mi allaccio direttamente perché alla questione precisazioni per il professor Isernia ci è stato chiesto via chat anche se nel sondaggio se nella coalizione di centro-sinistra è considerata anche l'alleanza verde-sinistra e poi una domanda molto pratica a cui rispondo direttamente io se i dati sulla politica di difesa e sicurezza sono già stati pubblicati sì c'è un'anticipazione a firma di Alessandro Marrone che ha pubblicato su affari internazionali e anche un focus di Michelangelo Freire direttamente sulla guerra in Ucraina quindi lascio la parola al professore sì no no la mia risposta ciao Fabrizio la mia risposta se ci sia ancora la mia risposta è sì sì sono inclusi anche loro anche il partito della Bonino e un altro adesso non mi ricordo Di Maio ecco Di Maio scusate un'altra cosa sull'avventura non c'è ma lo diciamo lo stesso in realtà nella domanda è possibile chi ritiene molti lo fanno che noi siamo alleati di entrambi o dovemmo essere amici di entrambi l'opzione c'era quindi e di fatti è l'opzione maggioritaria in diversi gruppi quindi era possibile rispondere anche diciamo di non dover scegliere tranne Nato UE ma di poter scegliere entrambi c'è una domanda su cosa aspettarsi dei rapporti tra il nuovo governo e Macron Scholz che invece passerei al Presidente in quanto ex ambasciatore e quindi può rispondere anche politicamente in maniera meno capito del nuovo governo con Macron Scholz dipenderà molto da come Francia e Germania stanno seguendo molto attentamente l'esito non solo l'esito della Costituzione ma soprattutto la formazione del nuovo governo immagino che sia pure con un atteggiamento di prudente e vigilante date le premesse ma siano comunque interessati a mantenere un'interlocuzione con il governo italiano quindi dipenderà molto da come si vorrà posizionare il nuovo capo dell'esecutivo personalmente ritengo che sia nell'interesse suo del governo e del paese mantenere un'interlocuzione positiva e collaborativa con Parigi e Berlino spero che poi le cose vadano in questo senso Grazie Andrea Nessia responsabile del programma politica estera dell'Italia che è un punto del periodo di cui parliamo per le conclusioni della giornata Molte grazie a tutti e tutte è stato un'interessante mattinata di discussione di dibattito su questo importante sondaggio io vorrei evitare diciamo di appesentire ulteriormente il programma quindi non entrerò di nuovo nel merito dei dati e dell'analisi che sono state già comunque illustrate molto bene dai nostri illustri ospiti quindi mi limito principalmente a ringraziare ringrazio per primo il laboratorio di analisi politica e sociale dell'Università di Siena col professor Pierangelo Isernia che è un grande piacere con il quale collaborare ormai sono molti anni che abbiamo intavolato questa collaborazione ringrazio specialmente per aver condensato così tanti dati così tante analisi in una presentazione di 15 minuti ringrazio senz'altro i nostri illustri ospiti che si sono collegati oggi con noi hanno contribuito alla discussione hanno anche portato diciamo diverse interpretazioni di questi dati alcuni un po' più pessimisti altri con un livello un poco minore di pessimismo da parte mia condivido un po' la sorpresa per alcuni dati alcuni di questi risultati e senz'altro la preoccupazione per il futuro e quello che va incontro il nuovo governo proprio in questi giorni in queste ore ringrazio però senz'altro il team di Politica Estroitaliana Akram Esamori Leo Goretti Ettore Greco è stato veramente un'ottima collaborazione all'interno del team come sapete tutti fare un'analisi e un sondaggio non è facile c'è molto lavoro che va dietro le quinte per preparare ringrazio sent'altro Nicolò Russo Perez e tutta la fondazione della compagnia San Paolo con il quale è sempre anche qui un piacere collaborare e con il quale ringraziamo perché è grazie appunto al sostegno della fondazione che possiamo portare avanti questi importanti lavori ringrazio anche Elisabetta Farroni e Giuseppe Pinto per l'organizzazione e il sostegno tecnico Francesco De Leo chiaramente per la moderazione avevo promesso di non entrare nel merito mi limito a sottolineare quello che credo secondo me sono quattro elementi principali che sono importanti di questo sostegno di questo sondaggio e di questo esercizio il primo è appunto la serie storica il fatto che noi abbiamo dati per alcune di queste domande che vanno indietro fino anche al 2013 e questo consente un'analisi molto importante anche approfondita di questi cambiamenti se ci sono degli orientamenti di opinione pubblica l'ampio campione degli intervistati 3.000 intervistati è un campione molto ampio al quale appunto ci differenziamo da molti dei sondaggi che vediamo quasi anche giornalmente in televisione l'elemento della divisione dei dati per partiti politici questo consente un'analisi anche un po' più dettagliata o comunque entrare proprio nel merito delle risposte e per finire chiaramente il ventaglio di temi che comunque riesce a coprire molti temi diversi oggi abbiamo parlato principalmente dell'Unione Europea chiaramente della guerra in Ucraina della crisi economica ed energetica ma ci sono anche molti altri temi che sono inclusi in questo rapporto e in questo sondaggio finisco nel dire quello che dico spesso che in Italia si dice appunto spesso che si parla troppo poco di politica estera italiana credo che grazie a questo esercizio di nuovo grazie ai nostri partner e al sostegno che noi possiamo contribuire un po' a colmare questo gap io personalmente ci tengo molto nel cercare appunto di portare la politica estera più vicino ai cittadini più vicino alla società e in particolare più vicino alle generazioni più giovani per questo diciamo concordo pienamente con quanto detto dai nostri ospiti per quanto riguarda l'elemento pedagogico di questi esercizi ma anche della responsabilità degli intellettuali dei think tank dei centri di ricerca di cercare di contribuire e speriamo addrizzare o comunque migliorare il dialogo sulla politica estera italiana ma anche sui temi internazionali di importanza centrale in questi giorni in questi mesi continueremo quindi il nostro lavoro come programma di politica estera italiana continueremo il nostro lavoro di analisi di sondaggi delle opinioni pubbliche il prossimo appuntamento è quello annuale anche qui del rapporto sulla politica estera italiana nell'anno 2022 il rapporto sarà pubblicato a gennaio probabilmente a inizi di febbraio del prossimo anno quindi avremo di nuovo un nuovo appuntamento di andare un po' ad analizzare nel merito e nel dettaglio le prove e le sfide della politica estera italiana durante questo anno passato è stato detto che il bello deve ancora venire speriamo che questo avvenire sia bello e che in effetti queste nubi che un po' tutti abbiamo sondato oggi nella discussione non si non divencono diciamo dei storms delle tempeste ma comunque anche in questo caso diciamo che sarà responsabilità dell'istituto continuare a lavorare su questi temi continuare a contribuire a questo dibattito e di nuovo sottolineo ripartire sempre di più dalle generazioni più giovani per cercare appunto di intavolare e far crescere una consapevolezza dell'importanza dei temi internazionali e la collocazione dell'Italia con questo ringrazio davvero tutti coloro che si sono collegati anche ricordo che il rapporto intero è pubblicato sul sito dell'istituto dal quale si possono andare a analizzare tutti i temi tutti i dati anche i grafici e ricordo anche che le anticipazioni di cui si è parlato questa mattina sono anche queste pubblicate sul sito dei affari internazionali grazie di nuovo a tutte e tutti a tutti i dati qui si è parlato di nuovo a tutti i dati di nuovo a tutti i dati Grazie a tutti.